Buon pomeriggio, buonasera, eccoci qui, mi ritorno in mente finalmente, arriva Terra Madre, salutiamo! Salutiamo, salutiamo, eccoci qua, siamo rientrati Marta, da ieri chiaramente. Da ieri, sì, l'avevamo detto che saremmo stati qui in questa cornice bellissima, che avremmo incontrato tante persone, avremmo raccontato tante storie e iniziamo diciamo alla grande, alla grandissima. Allora, siamo arrivati, siamo appena arrivati e iniziamo col botto, perché abbiamo un super ospite, super, 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 perché io l'ho visto tante volte in tv e adesso ce l'ho di fronte a me, quindi sono contento, no Marta? Sì, anche un po' emozionata, però, per me, lo inquadriamo allora, abbiamo con noi Fulvio Marino, eccolo! Ciao a tutti! Ah, bene, bene! Che onore! Che onore! Grazie, sono felicissimo! Siamo contenti, siamo contenti, siamo arrivati e subito l'abbiamo, ci ha accolto lui in realtà, bene. Sì, in realtà lui ha trovato lo stand prima di noi, ecco, quindi grande, già per questo 10 e lode. Allora, per chi non lo conoscesse, vabbè, c'è chi non ti conosce, anche pochi. No, no, ce ne sono, ce ne sono. Presentiamoti, tu sei un mugnaio, un fornaio, un panificatore e un personaggio televisivo, anche soprattutto adesso. Sì, di conseguenza personaggio televisivo, però sì, io sono mugnaio, nato in un mulino, che poi a 14 anni prende una folgorazione per il pane, per i lievitati, d'altronde della farina si trattava, e ho iniziato ad appassionarmi di panificazione, ed è lì tutto il mondo del pane, la pizza, i dolci, e tutto quello che è lievitato e che si fa con le farine è diventato poi il mio lavoro. Perché tu nasci in una famiglia di mugnai proprio, in provincia di Cuneo, quindi a che età hai iniziato a mettere proprio già le mani in pasta? Ho iniziato a giocare nel mulino, quindi ci sono nato, posso dire di essere nato in un mulino, e quindi a 14 anni faccio il mio primo lievito naturale, quindi inizia un po' la percorso della panificazione, però in realtà le farine, grano, le farine ci sono nato proprio, cioè non ho ricordo, il primo ricordo non ce l'ho perché ero troppo piccola. Ma senti, poi a un certo punto sei esploso anche a livello mediatico, in tv, non solo, prima magari sui social, che lo diciamo, perché hai 220.000 o addirittura su Instagram, una cosa pazzesca che ti seguono in tantissimi. Com'è stato il tuo percorso? Perché sappiamo qualcosina che è iniziato un po' nel 2020. Beh sì, allora io ho sempre lavorato appunto la panificazione, è diventata poi un mestiere, però in realtà per il grande pubblico, facevo un lavoro professionale, quindi facevo consulenze nel mondo della panificazione a livello professionale. Quando è arrivato il lockdown, dove tutti ci siamo trovati a casa, in quella strana primavera del 2020. Tutti facevamo il pane, ma non tutti lo facevamo come te però. No, diciamo che in un momento in cui, di incertezza, abbiamo cercato la sicurezza nella farina, nel lievito, infatti erano i due prodotti che mancavano dagli scaffali del supermercato, e io siccome ero a casa come tutti quanti, ho iniziato in maniera gratuita sui social, quindi soprattutto su Instagram, a fare delle dirette dove facevo il pane, dove facevo vedere in maniera gratuita quello che facevo, però che le persone non sapevano. E quindi diventa, diciamo una cosa, posso dire, con molto successo, nel senso che poi io facevo queste dirette doppie, no? Con amici più o meno famosi, per cui anche Antonella Clerici. E quando finisce il lockdown a lei propongono un nuovo programma e quindi mi chiama, perché avevamo fatto questa esperienza che noi ci conoscevamo già prima, andavo già alla vecchia prova del cuoco, ma meno. E' iniziata così, dicendo, vabbè, vediamo per quanto tempo riusciamo, adesso sono cinque anni che vado, e poi da lì sono nati un po' di cose, tra cui un libro che sta per uscire. Ecco, esatto, perché tu alle 18.30, se non sbaglio, oggi, quindi tra pochissimo presenterai il tuo libro Tutta l'Italia del pane. Esatto, di cui sono molto, molto, molto felice. Ebbè, che ripercorre un po' il processo di panificazione nel nostro paese, e tu dici una cosa importante, per quanto riguarda il pane, non esiste una sola Italia, ma esistono tanti paesi, no? In uno solo. Perché? Cosa racconti in questo libro? Cosa ci farai scoprire? Ma allora, innanzitutto è un libro che, oggi siamo al Salone del Gusto, a Terra Madre, è un libro che è nato insieme a Slow Food, e questo penso che sia un fattore importantissimo per questo libro, perché cerca di raccontare le regioni italiane attraverso il pane, le pizze e i dolci. Ci sono le nostre 20 regioni, io ho fatto un pane, una pizza, un dolce, per ogni regione, quindi 60 ricette. Insieme a Slow Food, questo libro si chiama Tutta l'Italia del pane proprio perché racconta, cerca di raccontare un po' la biodiversità italiana. Noi in Italia abbiamo una biodiversità incredibile, soprattutto in termini di pane. Ogni regione ha i suoi panni, ma ogni città, ogni borgo, ogni paese, ogni vallata ha veramente delle eccellenze. E in un mondo veloce come stiamo andando adesso, spesso magari io mi sono accorto che più giravo l'Italia, più mi accorgevo di eccellenze che spesso non conoscevo neanch'io. E questo libro parte proprio dalle farine, dal grano, perché racconta un po' anche come scegliere le farine giuste. E poi racconta un po', ad esempio, il fatto che se noi quando guardiamo una pagnotta di pane spesso non ci rendiamo conto di cosa c'è dietro, no? Ed è una cosa importantissima, secondo me, anche la consapevolezza, perché quando mangiamo il pane spesso giudichiamo il pane dal prezzo, diciamo costa poco, costa tanto, ci piace, non ci piace. Però poi in realtà una pagnotta di pane è fatta da tantissimi chicchi. Pagnotta di pane da un chilo, sapete da quanti chicchi è composta indicativamente? Sembra un quiz, è questo? Esatto, noi non siamo preparati. Un chilo di pane più o meno, ci vogliono 20.000 chicchi di grano per fare una pagnotta da un chilo di pane. Questi 20.000 chicchi hanno bisogno di delle spighe e dei metri quadrati di terra. E quindi in un territorio, quando mangiamo una pagnotta di pane mangiamo un territorio. Un territorio italiano, in questo caso, se il pane viene fatto da farine italiane. Ed è una cosa importantissima che racconta proprio le tradizioni, perché quel territorio fa parte di contadini, di quel posto, che hanno mantenuto il terreno, che hanno deciso di seminare certi grani piuttosto che altri. E quindi vuole mettere l'accento proprio su questo, sull'importanza del pane, che forse dopo il lockdown abbiamo riniziato di nuovo un po' di più a considerarlo. E Slow Food è stata determinante perché Slow Food si occupa di rivalutare, di anche proteggere un po' queste cose e abbiamo fatto questo libro. Che non è solo ricette, io ci tengo molto a raccontare questa parte. E' un racconto proprio dell'Italia, sì. E poi c'è una parte che parla anche di come degustare il pane. Ah, ecco. Come si degusta il pane. Perché non solo farlo, ma poi anche, ecco, come mangiarlo. Perché quando prendiamo un bicchiere di vino in mano, cos'è la prima cosa che facciamo? Il pane. No, il vino, il vino. Ah, il vino. Quando prendi un bicchiere di vino in mano. Ah, il vino lo annusiamo. Esatto. Quando prendi un pane in mano non lo annusi, lo mangi. È vero. In realtà il pane è come i formaggi, come il vino. degustarlo, no? E allora cerco di spiegare anche attraverso un amico, Davide Risso, che è un esperto di gusto, come degustare il pane. Wow. Senti, ce lo dai un segretuccio? Cioè il primo segreto per cucinare, per fare un buon pane, veramente. Ah, così ve lo sfacciato? Sì, io voglio farlo sfacciato, perché lo so che poi lui mi dirà, no, non te lo dico. Però io voglio sapere se... Il segreto che utilizzi quando persone ti chiedono il segreto. Fondamentalmente, io dico sempre, l'ho scritto anche, i segreti non esistono nel mondo della panificazione, nel senso che se ci sono dei segreti probabilmente... No, il segreto è non aver paura di sbagliare. Penso che sia quello. Il pane si fa con acqua, farina e sale, poi ci sono panni più complessi, ma spesso non... Quando è che impariamo a fare il pane? Quando ne facciamo tanto. Quando tutti i giorni facciamo il pane, quando sbagliamo tanto, impariamo. Io ho fatto così all'inizio. Io all'inizio ho preso acqua, farina e sale, ho lievito, non capivo niente. E bisogna non aver paura di sbagliare. Invece ci sentiamo sempre un po', magari... E poi ci sono mille segreti tecnici, tanti accorgimenti. Quello dovete assolutamente comprare il mio libro, per saperlo non ve lo dirò mai. Certo, ma è giusto. Però no, a parte gli scherzi. Però il segreto più importante è buttarsi e non aver paura di sbagliare. No, guarda, siccome il tuo libro ci trasporta dal nord al sud Italia, io in realtà sono alla ricerca di una pagnotta. Adesso ti sto guardando, sto pensando tantissimo a quella pagnotta che ho mangiato... Ma non è bello quello che stai dicendo? No, no, nell'infanzia in Calabria mia nonna al mattino mi mandava dal panettiere a comprare le pagnotte. La pitta. Non si chiamava la pitta. Guarda, non so come... Compravo questa pagnotta buonissima e al mattino facevo colazione con questa pagnotta che non ho mai più ritrovato. Quindi chi lo sa che magari nel tuo libro io non riesco a ritrovarlo visto che ci accompagni in questo viaggio. Speriamo che sia quella. Grazie. L'evento è ancora... Ci sono ancora posti? Sì, potete venire. Nel senso che se non ci sono posti seduti ci sono i posti in piedi però sarà anche l'occasione per il libro per farlo vedere in anteprima quindi venite. Grazie. Grazie mille, Fulvio. Grazie. Ciao.